Con 20 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato nella seduta di ieri la mozione presentata dal Consigliere di Forza Italia, Marcello Antonelli, sulla possibilità di schierare i militari per le strade della città per garantire una maggior sicurezza. Il provvedimento è stato accolto positivamente anche da alcuni esponenti della minoranza. Nelle prossime ore il Sindaco Carlo Masci incontrerà Prefetto e Questore per definire i dettagli. È evidente che esiste un problema a sicurezza, reale e percepita. A Pescara, io dico non solo a Pescara, ma noi amministriamo Pescara ed è giusto che ci occupiamo delle problematiche del nostro territorio. Ieri il Consiglio Comunale ha dato una prima risposta, sono molto soddisfatto del voto, della disponibilità del Sindaco e spero si tradurrà anche in altrettanta disponibilità da parte delle istituzioni, Prefettura, Questura, che dovranno concorrere a rimettere in piedi un percorso che porterà non solo l'esercito a Pescara a presidiare i luoghi più sensibili, ma anche a innalzare per esempio il livello della Questura di Pescara con conseguente aumento degli organici, a mantenere anche per il periodo invernale i 30 agenti di rinforzo che ci sono stati nella Questura di Pescara per il periodo estivo, a mettere in piedi una serie di provvedimenti che immagino alla fine daranno dei risultati importanti per quanto riguarda la lotta alla microcriminalità e un sostegno forte alle esigenze di sicurezza che i cittadini reclamano giustamente. Antonelli, per concludere, c'è un problema concreto in merito alla microcriminalità, al problema della sicurezza qui a Pescara? Io penso proprio di sì, i numeri ce lo dicono, ho ricordato ieri in Consiglio che non più tardi di 48 ore fa due agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti da un gruppo di extracomunitari nella zona di Piazza Santa Caterina, quindi è evidente che la Polizia Locale da sola non può contrastare questi fenomeni, peraltro non sono forza dell'ordine a tutti gli effetti e che quindi lo Stato attraverso le sue articolazioni deve presidiare maggiormente il territorio. Tutto il territorio non è possibile, lo sappiamo perfettamente, ma alcuni luoghi particolarmente sensibili Piazza Santa Caterina e tra questi possono essere oggetto di un'azione mirata, tesa, quindi a riprendere totalmente il controllo del territorio.